Preghiasco, perché tanto lo so che poi ci richiamano e ci ridicono, ma Caruso ha detto, no? Allora, se io sto in metropolitana, che devo fare il mio viaggetto di 10-15 minuti e, diciamo, non sempre ho la condizione di poter dire all'altro tu devi stare lontano da me un metro, perché è più facile che stiamo come le sardine. Allora, se stiamo come le sardine, io mi devo fare quei 10-15 minuti, ci scrivono da casa, non sarà più comodo, non sarà al limite che un poco, magari un poco, però mi protegge la mascherina? Molti la stanno usando comunque, lo si vede negli aeroporti, nelle stazioni, io ritengo che sia un eccesso di prudenza dopo un viaggio in metropolitana, lavaggio delle mani, attenzione a non toccarsi, questo è l'elemento di maggior rischio. La mascherina può servire per evitare... E occhiali da sole, che ci mettiamo, perché lei mi ha spiegato che pure gli occhi sono un problema. Gli occhi, naso e bocca sono un rischio. Quindi bocca chiusa, occhiali da sole, c'è travestiti... Una maschera da sub anche potrebbe... Una maschera da sub... Attenzione, perché secondo me gli eccessi di precauzione, come dice...